Come si può facilmente intuire, il metodo consiste nell'individuare e nell'analizzare le parole chiave della mozione per definire più chiaramente la posizione della propria squadra rispetto alla mozione stessa. Facciamo un esempio molto semplice. Tutte le barriere che impediscono il libero scambio dovrebbero essere rimosse. In questa mozione il primo termine chiave è senza dubbio l'espressione libero scambio. Per arrivare a una definizione di libero scambio che sia in qualche modo coerente con la posizione che si deve sostenere è necessario compiere una ricerca approfondita e raccogliere quanto più materiale possibile, partendo dalle definizioni dei dizionari e delle enciclopedie online. Per esempio, nell'enciclopedia Treccani, il libero scambio è in senso ampio un sistema fondato sulla libertà del mercato in cui lo Stato si limita a garantire con norme giuridiche la libertà economica e a provvedere soltanto ai bisogni della collettività che non possono essere soddisfatti per iniziativa dei singoli. In senso specifico è la libertà del commercio internazionale contrapposta al protezionismo. I concetti chiave sono libertà di iniziativa da parte dei privati, ruolo marginale dello Stato, libertà del commercio internazionale contrapposto al protezionismo. La squadra PRO potrebbe intendere questi concetti in chiave positiva. Il libero scambio dovrebbe essere inteso come il modo migliore per assicurarsi che le persone siano in grado di acquistare beni ai prezzi migliori, senza l'interferenza dello Stato su quei prezzi. Potrebbe anche essere inteso come lo strumento che favorisce la concorrenza internazionale tra le aziende, e la concorrenza è ciò che stimola l'innovazione e aumenta il benessere. Una volta inquadrato il termine chiave, la squadra PRO formula la tesi che sosterrà durante la discussione, avanzando le argomentazioni del caso. La tesi potrebbe essere questa. Siamo a favore della rimozione delle barriere al libero scambio perché esso è l'unico sistema in grado di garantire lo sviluppo e il benessere. La concorrenza stimola l'innovazione e la creazione di prodotti che sono in grado di soddisfare al meglio tutte le esigenze dei consumatori a prezzi competitivi. Siamo contrari all'interferenza del governo nei mercati. Occupiamoci ora della squadra dell'opposizione, che dovrebbe puntare sulle conseguenze della libera circolazione delle merci a livello locale e sul ruolo dello Stato. Da questo punto di vista, il libero scambio favorisce l'immissione nei mercati di prodotti esteri a prezzi molto più vantaggiosi, ma spesso a scapito della qualità. Non solo il libero mercato appiattisce le differenze ed elimina la varietà di merci prodotte a livello locale. Promuove la concorrenza, ma proprio per questo impone condizioni di lavoro ingiuste, salari da fame e non garantisce i diritti dei lavoratori. Una volta inquadrato il termine chiave, la squadra di opposizione formula la tesi che sosterrà durante la discussione avanzando le argomentazioni del caso. La tesi potrebbe essere questa. Ci opponiamo alla mozione perché crediamo che il libero scambio comporti una pericolosa esclusione del ruolo primario dello Stato, il cui compito è garantire a tutti i cittadini i mezzi di sussistenza a pari condizioni. La rimozione delle barriere al libero scambio porterebbe inoltre le persone ad abbandonare la responsabilità sociale a favore dell'idea che il mercato senza vincoli possa garantire benessere per tutti e risolvere i nostri problemi.